sei l'ha ucciso what? vabbè raga come l'ha ucciso il nemico ti scoperrò se rimani in questa zona ti hanno visto vabbè beeeella uno è finito in trappola c'è uno a destra c'è uno a destra ok che pezzo c'è uno a destra 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 oh dio due trabole ti sei beccato nooo ricarico no non importa vi vincerete senza di me il soldato proprio che ho perso raga però le camera almeno cosa pensi di fare eh? te l'ho detto io cosa pensavi di fare? che sto io furciello madonna che cancro bravo bravo c'è il mio caricatore non sbaglio non ha fatto la botola preso OP come cavolo ho fatto a prendere l'ela caviera caviera l'ultima ah caviera eh caviera ti ho visto per terra meno male che non ti ho ucciso guarda qui poi ci ho sconto blizzard guarda com'è utilizzato bene minchia rosso ne abbiamo uno qua cario parte preferita così cattivo bici vai scusa si perchè faccio il ferimento bici nero stanno al secondo piano e occhio eh la non credevo fosse l'ultimo dentro pensavo fosse ancora sopra ma t'ha laggato sono entrato due metri più fuori dalla porta due metri dentro avanti così si con la cosa elite orribile però va bene sono qua eccolo eccolo è sopra sopra scale occhio 15 secondi minchia mi ha preso per poco l'ho mirato perfetto in testa 10 secondi e via un operatore alleato animato scale scale un operatore hanno rinunciato ad accorpiarsi nel contenitore poi va via codice sconto no bistar che sbirata fortuna che stava ricaricando anche lei sono chiusi dentro raga possiamo fare la bottola e entrare tranquilli easy easy no che droni non 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 essere aggressivi su rainbow raga eeeh ma c'era 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 Vai vai qua dietro Tanto c'è il fuoco non passano No Vabbè vincete voi raga Eh che cavolo Eh ma mi avete detto è qui da me Io ho pushato e invece era di che aspettava Peccato Erroreccio mio Chi è di voi raga chi ha una bombetta per caso Andiamo dal garage Mi aprite sotto il garage Venite venite Cacchia la bombetta Venga sotto in garage Qui ci sono le auto E li becchiamo Via 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 Spacca qua 5 secondi Adesso aspetta Fine Sono veramente maledetto Basta la mia kill l'ho fatta Spacco l'anfora Ah io sono a posto il vaso Adesso si non devo essere troppo ingordo di kill Se no poi ci crepo Ah poi devo chiederti una roba Che ho visto Tanto lo sapete Vabbè ti copro anche io Ho sentito un mordere Non più Raga fuori da magazzino droga Della finestra c'è Ivana Yeah boy Yeah boy Oh dio 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 Lì ma era te che mi ha colpito Il problema Ah L'hai fatto in attimo Si 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 Che non gli hanno quelli qua Via noi I zoom Via voi Via voi Via voi Sei in una zona con Il codice sconto Bello mio Il codice sconto Bistard qua è reale Che nomi Online Yeah boy No 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 Sta facendo i Cosi Il twitch maledetto qua Spottano ancora Fuori da bagno Il giro da dietro Ah ecco il drone Bagno? Eh Era fuori da bagno Ora non so C'è l'eno Fuori da bagno Fuori da bagno Ciao No Raga è nato Altrio Cristo Altrio Rock c'è la sinistra Ho fatto terma E tio eh Si si è Non è dentro Non è dentro Sinistra Sinistra Non dentro Ah ho capito Nello stanzino Eh Ah si si Attenti Si ha Squagliato il bombero Non è uno scherzo Non è uno scherzo Eccezionale 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 Eh ho perso il full team Fin cavolo Rai Mi dovrò Un po' Il Roc Se riesce Vengo io Vengo io Vengo io Vengo io Riprendiamo le posizioni Siamo a 15 secondi! Occhio che smocco! Basta la testa altrove! Scala! 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 E vogliono pushare da qua dietro mi sa! Finessa corridoio è aperta? Nooo! È aperta? Finessa corridoio? Bevo! Mi sono allontandro di qui Sì! C'è troppo! Arrivano da ufficio in due! Siamo a 15 secondi! Billy dovreste averti tutte e due! Solo qua! Non muore! Non muore! Vi ho sparato il mondo! Vi ho sparato il mondo! Buona! Guarda che vado avanti io col drone! Vai vai dimmi tutto! Allora prima guardo qua angolo sinistra! Scade sinistra libero! Asseguirimento! Fatto cross! Eh cross! C'è anche dock! Fatto dock! Scala destra! Aspetta bomber c'è la! Sì! Faccio il giro da sotto! Aspetta! Forse non mi senti! Dittelo fai B! L'ultimo è dentro! L'ultimo è dentro! Dobbiamo prenderlo da tutti e due i lati! Adesso! Buono! Bella! Bravi raga! Pensavo che fosse... Bella! No da dietro! Ma vaffanculo dalla finestra! Da dove? Da dove mi eri? Ma sta in fondo! Non lo vedo! Fuse dovrebbe essere Washington! E il nostro dovrebbe essere morto! Eccolo! Perfetto! Era lui! Ma c'è uno in magazzino o no? Sì sì è Fuse! Torca vacca ho perso dieci anni di vita! Eccolo! Bravo! Era lui! Bravo! Eccolo! Ho perso dieci anni di vita! Bravo! Grande prova! Occhio! Anche l'ultimo! Secondo me invece è in bagno! Sì è in bagno l'ultimo! Bella! Avanti così! Portiamoci a casa sta partita con 11-1-3! Mi ha recuperato! Alla fine hai fatto 4 kill! Cavolo! Vabba via! E adesso ammiriamo! Il codice sconto Bistard e il Mute Elite che conclude così la partita! Venite venite! Ce n'è per tutti!